Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà. Oggi abbiamo un ospite che è Francesco Gigante, che è un bravo cantante, e vi insegneremo a suonare, questo è lo spazio come sappiamo riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte, una canzone dei Luna Pop che è Vorrei, dopo la sigla. Cantare in libertà Dunque ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi, e sono Re maggiore, quindi sappiamo che questo a sinistra dei due tasti neri è il Do, questo è il Re, e il Re maggiore è formato da le tre note che sono Re Fa diesis La, Re maggiore, Poi c'è il Si minore, quindi questo è il Do, andiamo indietro, c'è il Si minore che è Si Re Fa diesis, Poi il Sol, Do, Re, Mi Fa, Sol maggiore, quindi Sol, Si Re, suonate insieme, ed infine il La maggiore, quindi questo era il Sol, il La è subito a fianco, La, Do diesis, Mi, forma il La maggiore, e la canzone fa così. Vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi, vorrei, vorrei cancellare ciò che tu non vuoi, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi. Ebbene, questa era la strofa, nel ritornello gli accordi restano sempre gli stessi, ma si invertono e saranno in questo modo. E vorrei poterti amare, fino a quando tu ci sarai, sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai, così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo con te, io ti prego e sai perché. Quindi, come avete visto, gli accordi in questo caso sono gli stessi, ma partono dal Sol maggiore, La maggiore, Re maggiore e Si minore, in quest'ordine. Poi la canzone si ripete di nuovo con la strofa e poi con il ritornello, ma gli accordi restano sempre gli stessi. Bene, come avete visto, questa canzone era anche semplice da suonare. Io ringrazio Francesco per averci aiutato. Vi vorrei dire che Francesco Gigante è un cantautore, quindi se volete seguitelo. C'è una canzone che si chiama, come si chiama? Basta. Si chiama Basta. Su YouTube la troviamo anche. Quindi se volete andarla a ascoltare, io comunque vi lascio il link di questa bellissima canzone in descrizione. Insieme a tutto il resto, come trovare gli accordi, il link sul testo con gli accordi e la diteggiatura per l'entrame dei mani. Grazie ancora Francesco. E con me. E ci vediamo alla prossima.